mamma e figlio che mangiano mini non sei mai in pace si arriva un altro lì in fondo si vede che me la rompe di marroncini dai su su un altro ancora e lì dietro dice anch'io voglio il broccoletto ecco qui brava che mangiano bellissimi perché tutti quasi tutti aperti se vuoi venire anche tu sei benvenuto ok e questo dice io mi ero perso una lattugina buonissima qui ce ne va la casa da miele wow e questa domanda tutto quanto bello benvenuto buonissima 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 buonissima